Come nasce l'idea di realizzare questa importante iniziativa volta a premiare gli studenti meritevoli? Questa iniziativa è nata ben 12 anni fa, quando io ho preso questa segreteria dell'Associazione. Abbiamo pensato che come docenti dovevamo premiare ogni anno degli studenti delle scuole sia elementari, sia medie e scuole superiori. Abbiamo fatto una turnazione, quindi ogni anno assegniamo una borsa di studio a ragazzi meritevoli. Non è tanto l'impegno materiale, ma l'iniziativa vuole stimolare e fare crescere questi ragazzi nell'impegno culturale che lo studio premia. Un'iniziativa meritevole di premiare due ragazzi che si sono distinte nello studio. La scuola premia il merito, merito tanto sottolineato di cui tanto si parla. L'Istituto Manzoni-Iuvara questa sera ha l'onore di avere due ragazze dell'Istituto, una della sede Manzoni e l'altra della sede Iuvara, che hanno brillantemente superato l'esame di Stato con il massimo dei voti. E questo pomeriggio li premeremo insieme con un momento musicale di grande valore. Quali sono le tue emozioni nel ricevere un così importante merito? Innanzitutto sono molto emozionata perché non mi aspettavo di ricevere un premio per i miei voti scolastici. Non ho studiato per ricevere un premio, però sono contenta perché in questo periodo i soldi sono quelli che fa più comodo anche per andare avanti con gli studi. Idee e progetti per il futuro? Sì, vorrei diventare una studiosa della lingua araba, infatti sono iscritta all'Università Core di Enna, dove studio arabo e inglese in concomitanza.